Ehi, bevilo! Guarda qua! Non di là, di qua! Hai visto che bello? Dai, avvicinati e guarda meglio! Stavo pensando... Tu sai chi l'ha costruito questo? Sicura? Sicura, sicura? Non scaldarti! Vieni qua! Dai, pensaci! C'hai pensato? E sai chi è stato? Sai, io penso di saperlo, invece! Sì, secondo me sei stata te! Sì, te! Ma... Non sono arrabbiato! Ma sì, è bellissimo! Anche se... Ci sono volute 14 ore e quasi due e mezzo di materiale Gran lavoro! No, per favore! Di Erfolg! Oh, no! Ciao!